Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Questa sera Bologna-Milan, una partita, una trasferta molto delicata. Il Milan deve in qualche modo dimenticare subito la brutta prestazione contro il Porto in Champions League e dedicarsi con grande entusiasmo, con grande fiducia al campionato. Bologna-Milan, probabili formazioni, Bologna dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, solito modulo, modulo che in qualche modo sta contraddistinguendo il Bologna dall'inizio stagione. In porta Skorupski, Sumarò, Medel e Tett in difesa, De Silvestri, Dominguez, Vangberg e Aichi a completare il centrocampo, con Soriano dietro le punte, Barro Arnautovic, Barro che potrebbe fare anche il trequartista insieme a Soriano, quindi potrebbe essere un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1. Il Milan che risponderà con il solito modulo con il 4-2-3-1, con Tatarugiano in porta, con Calabria, Tomori, Chier, Bayotourè, con Ben Nasser e Tonali, Castiglieco, Novità, dopo, è un premio, possiamo dire, la sua titolarità dopo l'ottima prestazione, dopo la grande partita contro il Verona. Quindi Castiglieco, Krunic, Raffaele Au e unica punta, torna a essere titolare dopo tanto tempo, Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime cinque partite il Bologna ha in qualche modo totalizzato, ha conquistato otto punti, scusate, cinque punti, e hanno vinto contro la Lazio, hanno pareggiato contro l'Udinese e il Genoa e ha perso contro l'Empoli e l'Inter, quindi un rullino non positivissimo, cinque punti nelle ultime cinque gare, quindi una media di un punto a partita. Il Milan invece, nelle ultime cinque giornate, ha conquistato quindici punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Quindi vittoria contro l'Atalanta, contro l'Elas Verona, contro lo Spezia e contro il Venezia e pareggio contro la Juventus. Quindi un bottino, un rullino di marcia davvero importante che va consolidato e anche oggi serve importantissimo vincere, anche in virtù del fatto che l'Inter gioca contro la Juventus, quindi uno delle due potrebbe perdere punti e sarebbe importante continuare ad allungare per la questione qualificazione in Champions League. Il Bologna, insieme alla Lazio, ha il quarto rendimento interno del campionato, in casa infatti il Bologna ha conquistato dieci punti e il Rosso Blu insieme alla Sampdoria sono il nono attacco della Serie A con 13 reti e la quindicesima difesa con 15 subiti. Quindi un buon attacco, ma dietro la squadra balla un pochino. Infatti il Bologna e Mijajlovic nelle conferenze stampa chiede continuamente maggiore attenzione al reparto difensivo perché, lo si sa, le squadre che fanno bene in campionato sono le squadre che subiscono pochi gol, almeno nel campionato italiano vige un po' questa regola. Questa regola che non è scritta, ma in qualche modo le statistiche degli ultimi anni parlano davvero molto, molto chiaro. Il Bologna, insieme alla Roma, è anche una squadra molto sfortunata perché ha colpito più pari traverse, ben sei, quindi anche davanti si testimona la bontà dell'attacco, visto che è il nono attacco poi avendo colpito anche sei traverse che se si fossero tramutati in gol in qualche modo avrebbero potuto portare la squadra di allenanza da Sinisamia e lui c'è da avere qualche punto in più in classifica. E i migliori marcatori sono Arnautovic e Barro che hanno totalizzato tre reti a testa, quindi bisogna stare molto attenti a questi due giocatori che hanno saputo e hanno messo in difficoltà alcune squadre avversarie. Il nostro Milan è la squadra che insieme all'Atalanta e all'Inter ha il secondo rendimento esterno del campionato infatti in trasferta il Milan ha conquistato dieci punti quindi ci fa ben sperare questo ottimo rullino di marcia. I rossoneri hanno insieme alla Lazio il terzo d'accanto del campionato con dieci gol fatti e la seconda difesa migliore del campionato con sette reti subite. Sette reti subite che sono arrivate, se pensate, già due nell'ultima partita contro la Las Verona quindi bisogna in qualche modo tornare a blindare la difesa bisogna in qualche modo dare fiducia al reparto Chierto Mori dovrebbe in qualche modo guidare la difesa con Calabria e Baioture davanti a Tatarugiano. I migliori marcatori del Milan sono Brahim Diaz, Giroud e Rafael Leao che hanno segnato tre reti a testa in questo momento di questi tre oggi Milan ripartirà da Leao cercherà in qualche modo di servire al meglio Zlatan Ibrahimovic e vedremo un attimino come si svilupperanno le azioni offensive del Milan La partita oggi sarà trasmessa su Sky ma anche su Dazon e quindi ci sarà la possibilità per quasi tutti i tifosi rossini di prendere visione di questo nostro grande Milan e soprattutto chiedo veramente grande sostegno da parte dei tifosi per il Milan perché serve importantissimo nonostante i K.O. in Champions League che hanno creato qualche malumore di troppo bisogna sempre ricordarsi dove siamo partiti il percorso importante che stiamo affrontando che stiamo vivendo quindi stiamo vicini ai ragazzi sosteniamoli, incoraggiamoli perché a loro serve tutto il nostro grande supporto e come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere un piace di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera